Siamo tornati e pensa un po' questa sera ragazzi non vedo doppio alla mia sinistra guardate le vedete non è un effetto scenico dalla parte della regia ma sono gemelle adesso le andiamo a conoscere ma attenzione perché sono in tre a festeggiare infatti la terza è qui a fianco a me devo abbracciarla perché sono sentita sola la gemella diversa bravissima che ti chiami? Barbara Pappara Come tradisci? Detta Tommasella Perché è detta Tommasello? Perché è detta Tommasello? Tommasella Ah Tommasella perché? Per il cognome Tomella Ah ok vabbè Siccome non sono capace a dirlo Tommasella Perfetto Barbara Tommasella E andiamo a conoscere le due gemelline che oggi secondo me essendo sorelle gemelle una a destra e una a sinistra non mi vuole male perché sennò gli amici a casa si possono confondere Allora inquadrala da qui in poi perché se tu rinquadri il viso sono identiche Allora te ti chiami? Simona E te? Deborah Quindi tu sei Simona? E lei è Deborah? Eh non me lo ricordo più Ecco ho visto Una crisi di identità Tempostante E questa sera quanti anni compite? 20 31 Qua i conti non tornano Barbara aiutami quanti anni compi? Io 32 Facciamo il 7 e l'8 Perfetto Mi raccomando eh Dovete Sì tanto avete dato i numeri ragazzi e mi avete portato fuori strada Ci voleva qua veramente qualcuno che mi aiutasse con la calcolatrice scientifica Attenzione Ma attenzione perché questa sera tre ragazze spegneranno una sola candelina Ma quanto sarà grande questa candelina? Fate vedere i polmoni Alla madonna Tutta roba genuina Che belle che sono Ah godi Penso un po' penso un po' Allora vi auguriamo un mondo di bene e tanto tanto più Buon compleanno Grazie Buon compleanno e benvenuti al convento eh Un bacino Un bacino Bacino Ah auguri Che ti giravo Bacino 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 Oh